Anche io vi farò una confidenza personale. La sera, prima di andare a letto, io prego questa breve preghiera. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E prego cinque Padre nostro, uno per ogni piaga di Gesù, perché Gesù ci ha purificato con le piaghe. Ma se questo lo faccio io, potete farlo voi anche a casa vostra e dire, Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E pensare alle piaghe di Gesù, e dire un Padre nostro per ognuna. E Gesù ci ascolta sempre. Grazie. 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 Grazie.